Ospita l'arte è un'iniziativa che è stata un po' promossa da noi educatori del CD di Piario, il centro di urno disabili, in collaborazione con Don Damiano dell'ospedale. E naturalmente è un'iniziativa che avverrà sabato prossimo, sia mattino sia pomeriggio e verrà coinvolto una serie di artisti e anche una parte dei nostri ospiti, cioè di chi comunque vive all'interno di questo parco dell'ospedale. E naturalmente tutto avverrà all'interno del parco dell'ospedale, sia quello proprio di fronte all'ospedale sia anche la parte un po' più adiacente. E' un'iniziativa che consiste un po' nel dare in pasto questo spazio, secondo noi bellissimo, che abbiamo all'interno da darlo a questi artisti e dove loro possano comunque vivere un attimo a contatto con la natura e poter comunque promuovere la loro arte. Naturalmente non ci saranno solo artisti veri e propri, cioè pittori eccetera, ma ci saranno comunque anche dei nostri ragazzi che porteranno comunque alcuni disegni e comunque uno spazio artistico. Ci saranno dei musicisti, ci saranno comunque dei clown e l'idea è proprio quella di condividere attraverso l'arte un messaggio abbastanza trasversale, cioè un messaggio non solo fatto di linguaggio, ma un messaggio comunque denso e forte come può essere quello artistico, vissuto comunque anche su piani diversi, però ecco importante dove ognuno comunque può dare una parte di sé, può esporla e può condividerla con gli altri. Un'iniziativa questa che ha visto la collaborazione di diverse realtà? Sì, innanzitutto hanno collaborato gli operatori dei tre centri in cui sono inserite le persone con disabilità del nostro territorio, che sono il CDD di Piario, l'RSD sempre di Piario e il Servizio Formazione e l'Autonomia di Clusone. Naturalmente una grossa parte di lavoro l'hanno fatta anche i ragazzi perché hanno già comunque realizzato e realizzeranno anche in questa giornata alcune opere artistiche. In particolare ricordo un percorso che abbiamo fatto anche con alcuni ragazzi di Piario che hanno frequentato il CDD per diversi mesi e queste opere verranno proprio esposte nel parco nella giornata di sabato. Inoltre hanno lavorato a stretto contatto con noi alcune persone del Mat Club e anche dei Sorrisoli, ci siamo trovate in diverse occasioni per reprogrammare un po' questa giornata. Ringrazio anche l'azienda ospedaliera che ci ha permesso di utilizzare lo spazio esterno dell'ospedale, quindi ci ha sostenuto in questa iniziativa. Anche la comunità montana, Valle Serena Superiore e anche il comune di Piario che comunque ha sostenuto e condiviso con noi questa giornata. Inoltre ringrazio anche alcuni sponsor, in particolare il Panificio Minuscoli e Maffessanti Acque che hanno creduto e condiviso con noi anche questa iniziativa.